5 Stelle. Favorevole. 21.24. Sel. Favorevole. Lega. Favorevole. 5 Stelle. Favorevole. 21.502. Sempre Commissione Bilancio. Contrario. Contrario Sel. Lega. Contrario. 5 Stelle. Contrario. Contrario. Poi abbiamo gli aggiuntivi. 22.2. Perfetto. A questo punto procediamo con il primo emendamento. a pagina 268. Nel frattempo salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Farnesina di Roma che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Allora abbiamo il 21.1. Cioè l'invito a ritiro e il parere contrario di Commissione e Governo. È il Brescia. Dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Tancredi. Malpeggi. Simonetti.